è già la musica qua si fa grande pelatine e pelatine bentornati in questo nuovo video io sono max con la hiera noto anche come il pelato del tubo e oggi ci apprezzeremo a iniziare la campagna di halo allora innanzitutto opzioni a carriera personalizzazione vabbè impostazioni tastiera grafica campo visivo ok va bene direi halo anniversary avvio rapido normale come halo non è installato come halo non è installato come non è installato tutta la merda perchè vuoi installarlo voglio installarlo si ah l'ho installato provalo subito così ok andiamo normale abbiamo spazio del pillero cerco nomi di fuga e ti ricovera anche a bordo della tua nave tipo riferimento mezzanotte e 15 minuti ah no 15 minuti ma di 17.000 i spazio dove sono iniziare sono i minacci della campagna aspetta ha un KV siccome c'è un po' di tearing che ricorda anche di Alien Star Wars forse un granello lì? c'è una stazione spaziale forse Bortana, devo solo sapere se li abbiamo persi la risposta la conosciamo in tempi, no? c'è lei abbiamo fatto un salto nel buio come sono? arrivati qui per primi le navi dei Covenant sono più veloci ci hanno seguito da Rich perché alla velocità della luce le mie manovre erano limitate viaggiavamo a emissioni zero, no? solo prima di rallentare poi chiunque avrebbe notato la nostra scia nel subspazio ci aspettavano dall'altra parte del pianeta allora, qual è la situazione? i nostri caccia stanno terminando l'ultima ricognizione niente di serio ma ho individuato segni di avvicinamento di diversi gruppi da battaglia classe CCS tre grandi navi per ogni gruppo e tra circa 90 secondi li avremo addosso allora ci siamo riporta la nave al livello di allarme alfa tutti al posto di combattimento tutti signore tutti a posto a posto cortana c'è la gran accogliamo i nostri vecchi amici come si deve ho già cominciato ma cortana è quella di Windows tutta a posto attenzione a tutto il personale combattente tutti al posto di combattimento vai vai si inizia una grande saga la Halo Saga quinto plotone chiudere rampe su cotte undici quattordicesimo plotone ventiduesimo tattico alla paratia Charlie XIV domanda e io dove sono? c'è Master Chief avete sentito la signora? datevi da fare non è un'esercitazione ripeto non è un'esercitazione eh pensa un po' dai dai ancora una volta dobbiamo finire il lavoro iniziato dai piloti stiamo abbandonando la nave per affrontare i Covenant a terra quando incontreremo i nemici li faremo a polpette guardatevi col sugo signore si signore ma che cazzo non vi ho sentito attenzione a tutto il personale torniamo all'attacco contatto esterno e interno imminente a tutte le reclute che volevano vedere gli alleati da vicino oggi è il vostro giorno fortunato a posto dai wow bene scongeliamolo ok sistemi di basso livello attivati apertura involucro fra 30 secondi allora aspetta era congelato è caldo rimozione perni 5 secondi perché ah tutti i sistemi sono sul verde ciclo completo purca scusi lo scongelamento rapido capo qui siamo tutti un po' di fretta ok il risorientamento passerà presto bentornato signore ora la prepariamo al combattimento salve si guardi intorno per favore si 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 la calibrazione per la diagnosi della sua corazza bene grazie signore c'è un po' di esercizio monitor dello stato di salute attivi signore minchia eccole lì segni vitali normali nessuna bruciatura da freddo a posto ora può uscire dal tubo criogeno vai alla bersagliera no le ho dato una doppia dose di stimolante giri intorno al tubo criogeno e mi raggiunga per la diagnosi ottica quando è pronto eh usd per muoviti a posto questo perso quanto alto si metta sul quadrato rosso quadrato rosso che faccio so che di solito i tecnici controllano anche i sensori per la mira ma abbiamo poco tempo capo ok guardi le luci lampeggianti e prenda la mira appena le aggancia cambieranno colore a posto ok sembra a posto signore sto rilevando errori di calibrazione provo a invertire la sequenza dei suoi rilevatori di mira mi dica se va meglio in questo modo signore devo prendere la mira no l'altro modo no va meglio così o come prima ok provi ancora a guardare in su e in giù vuole che lasci tutto così o inverto di nuovo ok lascerò la sequenza normale ecco bravo a posto pronti per il test scudo energetico mi seguo alla postazione del test dello scudo arrivo arrivo gruppi di fuoco occupare posizioni difensive da alfa a sierra rilevati mezzi da bordaggio nemici in avvicinamento pronti a respingere gli intrusi devo mettermi qua ok attivate i suoi scudi energetici purca fico bene carica degli scudi completa a posto ok signore passi che testiamo la ricarica automatica ce l'ha eh la gente la muore io sto qua a manarla no voglio capire ricarica normale l'indicatore segna verde ponte a creo 2 qui il capitano che mandate subito il capo al ponte di comando dai così salteremo il controllo delle armi ho detto subito soldato sì signore dai il capitano sembra nervoso meglio sbrigarsi penseremo dopo alle armi dai dai cazzo cazzo no merda svelto dobbiamo uscire di qui subito puttana a questa parte ma chiamato sam cazzo oh e adesso di qua prova a passarvi qua cazzo qua si apre eh salve merda e dove vado ok quale forte blindate svelti svelti sì ma quieta via via cazzo che paura ok questo è strano perché non ma un'arma a te non me la dai portano a la polo in plancia subito arrivo vado cazzo cazzo dove è la plancia di qua ah è di là madonna arrivo levati dal cazzo che paura che paura sto qua com'è corso salve salve quindi no è ora ok ok incrociatore in queste condizioni mi bastano tre facciamo quattro vittime dormito bene oh guarda la grande oh guarda la grande si alla faccia di come guidi ah 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 a posto il controllo di tiro del cannone è disattivato capitano il cannone era l'ultima arma offensiva a posto ecco Vale anche per te Cortana E lei cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso Voglio atterrare con l'autun sull'oggetto che abbiamo trovato Con tutto il dovuto rispetto non servono altre morti eroiche Ah Apprezzo il tuo interesse Cortana ma non dipende da me Il protocollo è chiaro La distruzione o la cattura di un'intelligenza artificiale di una colazzata è inaccettabile E ciò significa che devi lasciare la nave Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza Caricale sul mio laccio neurale E preparati un trasferimento poco piacevole Grazie Grazie E qui entri in gioco tu A posto Fa uscire Cortana da questa nave e proteggila dal nemico Se la catturano sapranno tutto Spiegamento delle forze e ricerche sugli armamenti Terra Capisco Ci penso io La otun eseguirà manovre evasive finché non inizierà la fase d'atterraggio So che non mi darà ascolto Ma lascerei gestire la manovra finale Le mie subruttine Ottimo lavoro Cortana Grazie Sei pronta? Inchia Proceda Proceda Che cazzo è? Ti auguro buona fortuna Grazie Non ho bisogno A posto La tua struttura non è molto diversa da quella della auto Hai visto? Non farti strane idee Non tengo mai carica Dovrai trovarti le munizioni da solo Ok Esci dalla pilla Ok Quindi basta Vado Fugo Ok Direi di passare di qua Che paura Che cazzo? Spettacolo Spettacolo In bocca a chi la cerca Quei marines hanno bisogno di aiuto Capo Fai del tuo meglio Brucia Continuo Devarti dal cazzo Seguimi A posto Arrivo Arrivo Per cambiare arma Ah Che stavo lo scroll Mi vanno mai La pistola non è male Volino Così Del merde Che cazzo dice sto qua Ehi Ok Andiamo vai Ma chi? Dove sono finiti? Ma sono morti Gli ammazzati Che cazzo vuoi? Ah ok Sempre uno per cambiare arma Ok Ah ok Per sostituirla Vai E muori È più alto Di quanto pensassi Hai visto? Modestamente Cazzo Ci ha colpito qualcosa Eh sì A quanto pare Andiamo Andiamo Hai Guarda un po' qua Ce non c'è nessuno Ti serve aiuto Polca marisa Sì ma se non muori Però La pistola Che efficace Con stroste Merde Metta Vieni E' che di qua C'è qualcosa No Figurarsi Stanno usando le camere D'equilibrio Delle nostre scialuppe Per entrare Sì sì Noi usciamo E loro entrano Furti Non si può mai arrivare Di precisione Andiamo Furca Merda Merda Ah Quanti ce n'è 18.000 Qua Ah T'ho fatto secco Brutta Merda E' un tempo Urca Eh Fesso Sei fesso Oh Hai visto Un tempo Eh sì Un tempo Che qua Sì sì Queta Mi piace Eh Mi piace Mi piace Crivellato Di colpi Sì E' merda E' merda Ah eh Prego Cazzo Queta Mi piace Sto qua Non ci piace C'è l'olio di colpi Questa merda Qua Ok Ma dove Arrivo Arrivo Hai visto Scusa 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 Non l'ho fatta apposta Scusa 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 Eh Arrivo io Che sono suo zio Pensavo ci fosse Il fuoco Amico Puttana Merda Sembra Wismith Questa Raggiungere Raggiungere i punti Di evacuazione Sì sì E' tua nonna Coprimi Cazzo Scusa 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 What a hell Scusa Scusa Ok 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 Equipaggio E' il capitano che parla Pronti ad abbandonare la nave Ah sì sì sì, senza altro E in questa Sganciano le scialuppe, dobbiamo sbrigarsi Sganciano le bombe, vai A posto Merda, vaffa Sì sì Eh, ok Tazzo Quattro per accendere Ok Ok Di qua Sì, di qua Di qua Rilevo Covenant all'esterno Dei varchi d'accesso Rilevatore di movimento attivato Troviamo un'uscita sicura Qua Abbiamo questa accesa Siamo troppo vicini Dobbiamo trovare un'altra uscita Il rilevatore segnala via libera Aspetta Dobbiamo passare da quella porta Ma un'esplosione l'ha danneggiata Analisi Il meccanismo di controllo della porta è inattivo Ma è stato gravemente danneggiato Dovresti riuscire a sfondarla Eh, ho capito Bellini Oh, di cozzo Ce n'era un altro che Ah, ok Scherzavo Sì, ma se non muori però Oh, dio mio Un'altra pena dal culo Sì, ma se non muori Qua Ok Sì, sì, sì Andiamo Sembra che i Covenant Volessero prendervi di sorpresa A posto I geni I geni del male Qua Porco giu Minchia Cazzo E mari Eh, scappiamo tua madre Cazzo Merda Eh, di qua No Di là Era giusto di là No, voglio quella Mi piace questa Ok, andiamo Eccoci Rieccoci Che paura Di qua? No Ah, di qua Quattro Ok È andato per forza Eh, vediamo Eh, vediamo E non è che l'inizio Stronzo C'è un sacco Ma la pistola Porca Marisa Se gli ho fatto il culo Ah, sto stronzo Vedi che È molto più performata La pistola Questa Ok Ok Andiamo di qua Vai 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 Eh, micchia Lo resti, eh Fermati un po' A Cristo Che cazzo è successo Scusa Posso cambiare Così era il primo ano Ok È rimasta una chaluta A bordo Prima che parte Ma dove deve andare? No, di qua Ma pensa a te Ma dov'è? Qua? Ecco È il momento ideale Per andarsene Andiamo A posto Andiamoci Cioè, crescita Ok Ce la faremo, vero? Eh, minchia Non voglio morire Quaggione No, no Fidati Guardate Che cos'è quello? Tenente Sto cazzo Lo sapevo La OTOM sta accelerando Keys va in manuale Attenti tutti Ci siamo Tra cinque secondi Siamo nell'atmosfera Della netto Sicuro che non preferisci sederti? Andrà tutto bene Così Se avessi ancora le dita Le terrei incrociate Non c'ha le dita La bozzate Ok Ah, ragazzi E usci Oh Perfetto cowboy Siamo troppo veloci Troppo? DG Per la mano? Troppo rischioso Forse Una mano Aia Capo Capo Mi senti? Eh, quieta Finalmente Tutto bene? Puoi muoverti? Sì, sì Gli altri L'impatto Non c'è più niente da fare Rip Bene Direi che per oggi Il gameplay finisce qua DG